salve a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti in questa nuova recensione oggi sono qua a parlare di questo thriller suspense drammatico horror fantascienza di tutto di questo film è un puttanaio a 2000 generi io pensavo che all'inizio fosse un thriller poi c'ha varie evoluzioni uno può pensare ma che figo c'è quindi cambia no e no è una merda perché viene gestito così malamente che lo spettatore si ritrova un po a disagio durante la visione ma partiamo con ordine ovvero dalla trama che è il punto proprio quello più più visto e strarivisto che ha rotto i coglioni negli ultimi anni ci abbiamo questa ragazza che sta uscendo da un percorso un po diciamo ho capito andare all'università mi ricordo o mi sembra che è una cosa diciamo se non mi sbaglio dovrebbe essere l'università la mamma la va a prendere no dice ti porto a casa e gli fa conoscere questo ragazzo qua che prende sembrerebbe il figlio di sua mamma ti presento il mio nuovo fidanzato ma mamma come te lo sei permesso perché lei ha usato è geniale la madre un trucco che mi imparò un mio vecchio amico ovvero di togliersi 7-8 anni non di più perché uno potrebbe farsi qualche idea sbagliata il problema è che quando ti togli 7-8 anni se veramente te le porti bene allora uno lo puoi fregare ma quando tu te le porti un po male o ne dimostri più o dimostri proprio la tua stessa la tua età quella nostra mamma vuole essere furba no per prendersi quello giovine no sembrerebbe lui il ragazzo perfetto ci mantiene alla natura alla macchina tesla quasi qua c'è tutto quando che pensa alla natura l'evoluzione c'ha sotto casa delle delle creature orribili che sono sovravvissuti di 11 miliardi di anni ha detto che sono gli unici che sono riusciti a sopravvivere tutto è morto nel mondo tranne ste merde dell'acqua e sembrano dei peni con i denti non so neanche se ci sono veramente queste schifezze e niente tutta questa cosa qua e vediamo un po la nostra no la sua figlia un po se bagna no non te lo vede lui fa sembra ebbe uscito dai film di individuale ovvero che va in giro sempre a petto nudo per ogni occasione lui è sempre mutande o lui che si no si strizza la sua maglietta col sudore e lei quasi quasi solo berrebbe e poi c'è lui che solo beve gli scivano in che senso ci sono dei momenti strani del nostro caro toy ovvero lui che beve sto sudore lui che entra mentre la la figlia della sua compagna si fa la doccia si mette a leccare la tendina della doccia uno si fa tante domande dice ma forse fuori di testa e pazzo è scemo è malato tutte queste domande ti vanno a balenare nella mente perché dici non può essere una cosa del genere esiste un esso umano del genere si mette a fare ste cazzate è ben presso la nostra protagonista a parte toccarsi mentre pensa a lui con i suoi pettorali scolpiti e depilati si rende conto che forse forse nasconde qualcosa ti può andare di notte andare in un lago delle luci strane sotto il lago un'astronave forse sotto il lago lui che forse è una creatura come questi peni con i denti ci sono varie situazioni strane non mi hai fatto spoiler frega cazzi perché è una merda io ti ho salvato anche la vita perché ti ho salvato io 88 minuti della tua inuchile vita ti ho salvato quindi dovresti ringraziarmi anziché dimmi ah mi hai fatto spoiler ma magari ci farebbe stato qualcuno a farmi lo spoiler a me e mi avrebbe salvato da questo merda minchia appena mi arrivo qua sotto uno che mi dice no a me è piaciuto io lo mando a cacare oppure qualcun altro che ne so una ragazza mi dice eh ma lui è buono ma non me ne frega un cazzo se lui è buono io parlo del film che è una merda e quello penso che siamo d'accordo tutti se capite di cinema poi se siete ignoranti o mi piace la merda so cazzi vostri non voglio avere responsabilità quindi questa gestione del film ovvero passare ad altri passare alla fantascienza passare all'horror non è molto interessante perché ti confonde lo spettatore ma non confondi in un lato no che vuole fare il film intelligente no confondi che fai cercare il cazzo che ti viene voglia di andare a parlare con lo sceneggiatore e sputagli direttamente in entrambi gli occhi eppure in bocca tutti i suoi orifizi tranne in culo perché poi vabbè in culo forse si premettergli qualcosa perché questo film è orribile su tutti i punti di vista sulla recitazione esagerata sui personaggi che fanno cacare lui proprio sembra un cazzo di va bene gli dici minchia deve essere un espressione perché lui no o viene dall'altro al mondo no l'analieno o forse si è voluto questo pene con i denti in miliardi di anni perché la cosa strana bellissimo cioè lui intelligente no lui pensa di essere intelligente nello stesso paese che è un buco di culo di 400 persone ci sono 10 persone che uguali a lui cioè non si rendono conto perché lei quando andiamo in giro ha visto che c'era uno uguale a lui però con i baffetti poi si gira e ce ne mette un altro che porta la spesa col cappellino e io ho detto se un paese così piccolo cazzo non si rendono comici ma perché cazzo la scostotta è venuto con un'altra donna poi è venuto con un'anziana poi lui era gay cioè le persone non si rendono conto dice ma cazzo ma questo ha doppia personalità questo qui ha doppia vita no la gente in questo paese sono completamente rincoglioniti sono prende dei bot sono prende dei cazzo di npc di un gioco che fanno loro non ragionano loro vivono continuano a fare le loro routine le loro stronzate ma non si rendono conto di questo tizio che un giorno è con una un giorno c'ha i capelli un giorno c'ha i capelli un giorno è gay un giorno c'ha la barba un giorno non ce l'ha vabbè che cosa devo dirvi più le musiche sono da merda la fotografia è da merda la gestione di tutto fa schifo gli effetti speciali lasciamo perdere completamente che sono orribili pure quelli le morti se ci sono manco te le fanno vedere più di tanto la lotta finale della nostra ministra che cerca di scappare da questo coglione fa pure schifo anche quella neanche si salva neanche quella non si salva niente l'unica cosa che si salva non vedere film vi salvate voi ve lo assicuro che vi salvate vi salvate a non vedere una cazzata io l'ho fatto in recensione pure giorni dopo perché non sapevo cosa dire ho detto ma io la devo fare in recensione cioè io veramente io dovrei parlare di sto film so io che sto allungando il brodo arriva al minutaggio ma io un minuto ma anche 10 secondi sto film uno lo può dire che cos'è con te orribile ora fatemi sapere un po' voi se anche voi che se ne finì qua attrazione letale ma che attrazione letale andassi a cacare va che fa schifo è una vergogna proprio come film non ha senso ma veramente ma chi cazzo se lo prende sto film cioè non so se è scenduto di blu veramente chi se l'è comprato proprio gli piace prenderlo nel culo questo è sicuro detto questo io vi saluto vi ringrazio ringrazio tutti quelli che siete iscritti al canale ha fatto dei bei commenti che mi avete scritto per tirarmi su io vi ringrazio e ci vediamo a un prossimo video sperando sempre che sia almeno un bel film ma non penso sai c'è un brutto presentimento che qualche attra cacata arriverà e già se vi va vedetevi qualche altro video qua e qua sotto trovate anche una wishlist se volete regalarmi qualche film da recensire da portare qua sul canale mi raccomando eh ho fatto anche un regalino al nostro dottor Dragolo prima che ci rimane male diceva che a me non me pensate non ce so pure io ecco pensatelo pure al dottor Dragolo poveraccio che poi non ci regalate mai in cazzo a lui ci avete regalato solamente Renato Belli e Barbarossi che ha regalato un film e poi per il resto non lo cacate poveraccio grazie a tutti 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 Grazie a tutti